Sono qui per presentare Giovani in Festival, una manifestazione dove metto insieme gli artisti di vario genere, quindi pittori, scultori, fotografi, ma anche ballerini, cantanti, musicisti, comici, poeti, tutte le arti e in più di tutte le generazioni, quindi un incontro di arti e di generazioni. Questo alla Rocca Malatestiana di Fano il 3 e 4 giugno. Il 3 nel pomeriggio alle 17 ci sarà l'inaugurazione della mostra. Siete tutti invitati, ingresso libero. Nel dopo cena alle 9 e un quarto inizia lo spettacolo, quindi cantanti più di impostazione pop rock, cosa che invece la domenica sarà più sul classico, quindi balletto, musica classica, cantanti lirici, italiani e internazionali. Anche lì poeti e una sorpresa per una cittadina pesarese molto particolare, che di sicuro voi conoscerete. Il mattino della domenica, già dalle 9 è aperta la mostra per tutta la giornata. Colgo l'occasione per ringraziare i nostri sponsor. Abbiamo tra tutti quelli che hanno creduto in noi, innanzitutto l'assessore al turismo Etienne Lucarelli, poi la signora Coraffattori dell'assessorato alla cultura e Porfiri Casa, a cui si aggiunge l'Enterprise, che ha una sede eccezionale molto bella a Pesaro. È il quadrifoglio che si occupa di prodotti sanitari, mentre l'associazione Maruzza si occupa di sensibilizzare la popolazione sulle cure palliative per l'infanzia. Poi abbiamo l'Albatros, il gruppo metaurense che ultimamente a Fano sta facendo scalpore, perché ha prodotto un film, ha prodotto libri e attività culturali di vario genere. Sono Elmo Santini, presidente regionale dell'associazione Maruzza Marche. In questi giorni è il trionfo della Maruzza, perché oltre a aver finalmente portato a termine il discorso dell'ospice pediatrico a Fano, proprio ieri in commissione regionale sono state deliberate la formazione di medici e infermieri per organizzare l'assistenza sociale a casa per i bambini, perché, come è nel nostro slogan, a casa è più meglio, dicono i bambini, perché l'ospice serve per le fasi acute, per gli altri momenti i bambini devono essere assistiti a casa. Crediamo in questo progetto, abbiamo creduto perché quando si parla di vita, si parla di feste e tutto quanto, è questo perché spesso si parla di ospice come punto dove si va a morire, è tutt'altro. L'ospice è per la vita, noi siamo per la vita e quindi abbiamo creduto in questa manifestazione organizzata dal Doro Catalani, quindi per questo l'abbiamo sostenuta. Ecco, per altre informazioni info-dorocatalani.it oppure www.dorocatalani.it per tutto quello che volete sono a disposizione. Ciao a tutti!